Il Cossato supera in rimonta per 2-1 il Briga. Vittoria meritata, quella ottenuta dai ragazzi di Braghin. Il primo sussulto del match al quarto, Bernardo nello spazio per Cremonte che calcia, complice anche una deviazione, sull'esterno della rete. All'ottavo lancio lungo di Rai Nero per Bonula che tutto solo, al posto di avanzare, tenta un pallonetto che termina alto sopra la traversa. Molto buono l'avvio degli ospiti, da Ferrari a Mancuso, Margarita con i piedi si rifugia in angolo. Al primo vero tentativo il Briga passa in vantaggio, il merito è tutto del 2003 Suppa che fa partire un tiro imparabile per Rai Nero. Alla mezz'ora da Gregorio a Bernardo che calcia, botta sicura, Margarita si distende e respinge. Ancora il Cossato in avanti ci prova Bonula dal limite, nessun problema per il numero uno di casa. La sedia ospite continua, Bernardo da centro aria, Margarita in due tempi cattura la sfera. Poco prima dell'intervallo da Belloccio a Briola, palla sul fondo nella ripresa. Dopo solo un giro di lancette Bonula parecca per Mancuso che sottoporta, si divuola il gol del pareggio. Il Cossato continua a collezionare palle e gol, prima con Ferrari che manca da pochi passi la deviazione e poi con Celussi che d'azione di calcio d'angolo sverta più in alto di tutti senza però trovare la porta. Al quarto d'ora da Subadasole, diagonale fuori misura. Al ventunesimo arriva il pareggio del Cossato con Badin che dal limite dell'aria fa partire un tiro imparabile per Margarita. 30 secondi dopo ancora Badin alla palla dell'1-2 ma da buona posizione calcia a lato. L'1-2 diventa realtà al minuto numero 24 con Ferrari che da centro aria non lascia scampo a Margarita. Negli ultimi 20 minuti non succede più nulla e il Cossato espugna con pieno merito il campo di briga.